È un prodotto di origini antichissime, risalenti probabilmente addirittura al 1400, quando le poche risorse e la necessità di sfamarsi con quello che c'era in casa, aguzzò l'ingegno di qualche illuminato della cucina. Nacque così l'ormai noto impasto, che una volta lievitato e cotto in forno, dà vita ad una delle prelibatezze gastronomiche più amate ed apprezzate. Parliamo dei taralli, una presenza immancabile nelle dispense delle famiglie pugliesi. Di strada da allora ne è stata fatta tanta, spesso hanno cambiato forma e gusto e agli ingredienti base ne sono stati aggiunti altri, a vantaggio dei palati anche più difficili. Ma al netto delle migliorie apportate, la ricetta classica è rimasta pressoché invariata. La stessa, seguita rigorosamente dall'azienda Terre di Puglia, che ormai da oltre vent'anni ha fatto della produzione di taralli e snack la sua missione, portando la tradizione pugliese al di fuori dei confini regionali. Lo ha fatto anche in occasione dell'ultima edizione di CIBUS, la manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare made in Italy, che si tiene ogni anno a Parma. Una kermesse importantissima per l'Italia. Presentiamo alcune novità, che sono i nostri taralli gourmet, che uniscono al tarallo le specialità regionali dell'Italia, come il parmigiano reggiano, come il pomodoro secco, come la cipolla. Sempre presenti le nostre linee di taralli millerighe, che sono veicolate nel retail di tutto il mondo, partendo dalla vitrina Italy, molto importante per noi, perché ci dà la possibilità di esplicitare il valore del nostro prodotto, sia a livello di qualità ma anche a livello di packaging. Presenti anche le nostre linee dei taralli moderni, la nostra linea storica, disegnata a Filadelfia e poi veicolata anch'essa in tutto il mondo. Per finire, la nostra linea dei taralli fatti a mano, che sta acquisendo sempre più presenza sul mercato, è sempre più successo. La linea dei taralli fatti a mano, presentata due anni fa in connubio con il progetto A Mano Libera di Andrea. Una storia partita dalla Puglia con un'idea ambiziosa, quella di condividere i sapori della tradizione culinaria regionale a livello mondiale. Un obiettivo centrato dall'azienda, che ormai esporta i suoi prodotti praticamente in tutto il globo, ma per ogni traguardo raggiunto c'è sempre un nuovo progetto da realizzare. La nostra presenza sul mercato si riconferma su tutto il globo, partendo dagli Stati Uniti arrivando all'Australia con una presenza importante nell'Europa. I nostri progetti futuri riguardano il lancio di una nuova linea di snack, che saranno inizialmente presenti nel mercato della distribuzione automatica, per poi approdare alla grande distribuzione nella confezione Multipack. Sveleremo i dettagli di questo nuovo prodotto nella prossima edizione di Milano Venditalia, che si terrà appunto dal 15 al 18 di maggio. Grazie.